I numeri dell'emergenza coronavirus sono destinati a crescere e il Veneto si sta preparando all'uragano, ma senza panico. Parole di Luca Zaia che sottolinea ancora come il futuro dei Veneti passi soprattutto dalle buone pratiche e quindi dalle mascherine. Se portate la mascherina, pensate che Suomo usa la mascherina chirurgica come questa e la portate bene con il naso coperto, non con situazioni che non c'entrano nulla con la tutela. Se la portate bene la possibilità di infettarsi è pressoché tendente a zero. E allora pensate che noi parliamo sempre di restrizioni, ma se ci pensate fino in fondo potremmo fare una vita senza restrizioni se tutti portassero e avessero portato la mascherina. Il timore di un passaggio in zona arancione è sempre vivo, ma anche in questo caso Zaia ricorda che le restrizioni sono strettamente connesse con i comportamenti di ognuno. Il problema è che il senso civico in alcuni manca, in altri c'è il totale negazionismo dell'evidenza e il risultato è che dobbiamo ricorrere alle restrizioni. Noi non abbiamo in animo di mettere restrizioni, pensiamo che siano già al momento sufficienti quelle che sono in corso.